La crisi che ha colpito l'agricoltura è straordinaria e altrettanto devono essere gli strumenti per combatterla. Ne è convinto il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro, che a Bari ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni agricole per parlare non solo di crisi, ma anche della PAC, la politica agricola comunitaria. Stiamo pensando, ha detto De Castro, ad un pacchetto di misure per i prodotti mediterranei, a delle proposte concrete sulle singole filiere, ma soprattutto è importante che si creino regole condivise e comuni. Noi, a proseguito in Italia, rispettiamo tutte le regole sull'esportazione, ma poi ci troviamo a fare i conti con le importazioni da paesi che non le rispettano. All'incontro ha partecipato anche l'assessore alle politiche agricole della Regione Puglia, Dario Stefano, in prima linea per affrontare i problemi del settore. Dobbiamo confrontarci con le categorie, ha detto Stefano, anche per riuscire a trovare gli strumenti anticrisi in sede europea. Facciamo tesoro, a proseguito, del rapporto che abbiamo proprio in sede europea con De Castro. E sui controlli Stefano è convinto che non si possa correre da soli. Una buona idea, infine, per l'assessore, è quello dei distretti produttivi. Una buona pratica per stare insieme, li ha definiti. Grazie. Grazie. Grazie.